un saluto a tutti gli appassionati di calcio all'ascolto dunque commento di genoa venezia terminata 1 a 0 per la formazione rosso blu ma che fatica per la squadra di gilardino battere questo coriaceo venezia che probabilmente non meritava di perdere al luigi ferraris si gioca in una serata piuttosto fresca a marassi di fronte a una cornice di pubblico davvero grandiosa considerato che si giocava al lunedì alle 18 e 45 un testa coda che vedeva il genoa pronto a conquistare i primi punti in casa del suo 2023 di fronte ai lagunari alla ricerca di riscatto dunque si comincia con un genoa che schiera martinez in porta poi vediamo la linea difensiva composta da Efti, Bani, Dragusin e Criscito a centrocampo Frendrup, Strotman e Iaggello in attacco Aramu, Puskas e Gudmundson risponde il venezia con un 3-5-2 con Iorone in import poi Svoboda, Cepitelli e Ceccaroni a comporre il trio difensivo a centrocampo troviamo Zampano, Cernigoi, Tesman, Busio e Aps in attacco Poliampalo e Pierini dunque una partita che comincia con un primo tempo piuttosto soporifero per i primi 20 minuti il genoa dà l'impressione di giocare alla gatto con il topo il venezia si limita alla fase difensiva il genoa dà l'impressione di poter affondare il colpo da un momento all'altro colleziona qualche calcio d'angolo ma tutto questo si rivelerà una grande illusione perché con il passare dei minuti il venezia prende sempre più campo di fronte a un genoa che a quel punto lì non riesce più a raccapezzarsi sale in cattedra la formazione di Vanoli che si costruisce almeno tre palle gol nitide in chiusura di primo tempo prima con Cernigoi che tira fuori praticamente un rigore in movimento poi a sei minuti dal termine ancora Cernigoi con una gran botta nel cuore dell'area di rigore rosso blu strepitoso Martinez che tocca il pallone quel tanto che basta per spedirlo sulla traversa e poi ancora un contropiede del venezia con Aps e c'è un salvataggio miracoloso di Dragusin dunque genoa al riposo a capo chino con un venezia che sale decisamente in cattedra a quel punto Gilardino dà una spallata vigorosa alla partita con due doverosi cambi fuori Agello e Efti dentro Sabelli e Vogliacco il genoa cambia scende la difesa a tre il centrocampo rimane a quattro ma con due esterni a questo punto Vogliacco diventa il centrale difensivo mentre a centrocampo Sabelli attacca a destra e Crescito attaccherà a sinistra un genoa che ha quel punto lì torna a soffrire molto di meno in difesa un genoa senz'altro più quadrato però insomma manca la scintilla prova Puskas dopo pochi minuti nella ripresa ma Cincischia davanti a Joronen viene annullato un gol giustamente ad Aramu per fuorigioco poi ci sono nuovi cambi Coda prende il posto di Puskas Aramu lascia il posto a Jalsin e Sturaru prende il posto di Gudmundson il Venezia si difende senz'altro con ordine prova a punzecchiare un Genoa però a quel punto tornato senz'altro Coriaceo e attento in difesa e poi insomma la grande zampata vincente in chiusura di partita c'è un cross dalla tre quarti di Dragosin splendida la sponda di Jalsin palla nell'area piccola dove arriva come un falco più lesto di tutti Massimo Coda che da distanza ravvicinata non dà scampo a Joronen è questo il gol della vittoria è questo l'asso pigliatutto calato da re Massimo che finalmente torna a rugire e a segnare sotto la nord a quel punto il Venezia prova a attaccare a testa bassa per quel che ne rimane in una manciata di minuti Martinez ha senz'altro buona attenzione sia dai compagni di reparto che anche dai centrocampisti e dunque il Genoa porta a casa tre punti pesantissimi dobbiamo dirlo ad onore del vero il Venezia meritava quantomeno il pareggio ma sappiamo che questo è il calcio e i campionati di Serie B si vincono anche in questa maniera non limpida un Genoa dunque pragmatico Gilardino conquista una nuova vittoria e questa è la sua quarta vittoria in cinque partite 13 punti conquistati su 15 davvero un ruolino di marcia per l'ex eroe mondiale qualche numero prima di chiudere questo collegamento possesso palla 52 a 48 per il Genoa che ha tirato in porta quattro volte contro la sola del Venezia per il resto calci d'angolo tre pari un'occhiata anche alla graduatoria sempre più incoraggiante per il Genoa e sempre più cupa invece per il Venezia grazie a questi tre punti il Genoa sale al secondo posto agganciando la Regina a quota 36 comanda il Frosinone con 42 poi Regina e Genoa a 36 Genoa arrivato alla terza vittoria consecutiva la quarta nelle ultime cinque partite Genoa che si conferma difesa ermetica con la seconda retroguardia dell'intero campionato il Venezia invece rimane nelle zone bassissime della graduatoria penultimo posto per la formazione di Vanoli a quota 20 insieme al Perugia un solo punto nelle ultime tre partite per i Lagunari che però per quanto visto quest'oggi a Marassi meriterebbero ben altra classifica per quanto riguarda invece i singoli per quanto riguarda il Genoa sugli scudi Martinez autore di una nuova partita attenta con quel miracolissimo sul tiro di Cernigoi deviato sulla traversa a mio modo di vedere sugli scudi meritevoli di copertina anche Dragusin e un Bani davvero attento un Bani che aveva salvato il risultato proprio in zona Cesarini con un miracoloso salvataggio sulla linea poi il gioco è stato interrotto comunque bravo Mattia ad esserci da rivedere senz'altro un Hefti in clamorosa difficoltà partita sufficiente invece per Crescito Strotman e Frendrup Iagello non ha convinto al pari di Gudmundson e Aramo Puskas nettamente fuori dal gioco è davvero stato poco servito dai compagni ma dobbiamo dirlo si è fatto davvero poco vedere per quanto riguarda i giocatori subentrati partita di sostanza per Sturaro e Vogliacco Ialsin si è segnalato per questo immenso assist che rappresenta la cosa più bella da quando gioca con la maglia del grifone e poi naturalmente tutta la copertina tutto l'occhio di bue per re Massimo Coda che entra dalla panchina e risolve una questione davvero complicata il suo settimo gol in campionato vale per il Genoa una settimana di Sorresi il secondo posto in graduatoria e una vittoria davvero pesante è tutto per questo collegamento su Genoa Venezia noi naturalmente domani ritorneremo con nuovi approfondimenti sulla partita di Marassi naturalmente poi faremo anche un excursus sulla ventesima giornata del campionato di Serie B un campionato davvero sempre più emozionante grazie per l'attenzione vi auguro un buon proseguimento di serata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti